1259. Anno tragico per Ezzelino. Anno di sconfitte e di morte nel suo tentativo di conquistare Milano. Lo scaligero mastino alla morte di Ezzelino da Romano si trova improvvisamente col consenso popolare a capo di Verona. Feudatari e nobili di parte Guelfa non hanno alcun peso nella politica di Verona. Cacciati da Ezzelino e marginati dal potere da più di un ventennio potranno ora rientrare in città sperando che finiscano le loro scorribande e guerriglie contro i cittadini veronesi. Conflitti che ostacolano traffici e commerci. Rientrino ma restino esclusi da cariche e pubblici uffici. I San Bonifacio ritornino pure in Verona con quelli della loro parte. Pace, pace con tutti dentro e fuori la città. Con i Guelfi, con gli Estensi, con i Mantovani.